Degimarmi, lavorazione e trasformazione del marmo e pietre. Marmi di ogni tipo e pregio. Lavorazioni artistiche. Azienda leader nel settore, dove troverai esperienza e innovazione. Degimarmi, la pietra d'angolo per edificare il tuo sogno. Pagamenti personalizzati. Degimarmi di Giuseppe De Stefano, via Polvica, telefono 081 315 1026, San Felice a Cancello, Caserta.